Non più ad associazioni di quartiere ma a... 18 eventi divisi tra campagnoli e culturali, più tutti gli appuntamenti alla BCC Arena con concerti e la segna Teatro Sotto le Stelle, a cui si aggiungono il programma per la famiglia di Torrette Promotion e la nuova entrata, Obiettivo Ponte Sasso, con i nove appuntamenti estivi. È un programma, quello della Proloco di Fano, che non trascura nessun elemento per fare dell'accoglienza turistica un fiore all'occhiello di Fano. E che, nella sua varietà di proposte incentrate sull'intrattenimento, ben si raccorda con quelle dell'amministrazione comunale e dell'assessorato al turismo, che pur con un taglio diverso parlano la stessa lingua, quella del turismo di qualità. Il ritrovarsi insieme attorno a Buon Cibo, in una bella festa, che fa scoprire anche angoli diversi, meno canonici della città, perché Fano è bella in tante sue parti, ci consente anche di dare un'opportunità, un'esperienza maggiore ai turisti, perché è una sera in centro storico, una sera al mare, una sera magari un po' nelle periferie che hanno bellissime cose da far vedere e anche tradizioni loro da raccontare. Eccellenze territoriali, enogastronomia, tradizioni e storia. Da maggio ad agosto, tutto in un'estate, con appuntamenti ormai consolidati e le novità di quest'anno. L'obiettivo Ponte Sasso nel lungomare darà vita a tutta una serie di appuntamenti, con un evento clou, che sarà un po' un'anteprima del Festival del Brodetto, con un nome molto particolare, si chiama la festa Il Gir D'Amenca, e vedrà la presenza di Mario Tessuto. Lo ricordiamo con la famosa canzone Lisa dagli occhi blu, quindi un suo concerto e quella sera si mangerà a Brodetto, un evento che cercherà di caratterizzarli.